Buongiorno a tutti. Come tutti abbiamo visto i fatti di Cardi con la sua compagna nonché manager Vanda Lara con quelle foto hot postate lì su Instagram, composizioni alquanto hot, come dice in inglese calde, personalmente ecco che i Cardi nella sua vita privata faccia ciò che vuole per me è una cosa normalissima e lui può fare realmente ciò che cazzo vuole nella vita privata. Però ovviamente essendo un capitano di una squadra prestigiosa quindi un club rinomato quale l'Inter dovrebbe almeno dare una come dire un'immagine di sé un po' più seria e non da ragazzotto ragazzaccio montato che fa queste foto insomma un po' come dire da bulletto capito da bulletto cioè foto senza senso insomma. Poi ripeto ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole però essendo un capitano essendo che comunque il nostro team ha avuto capitani del calibro di Zanetti, del calibro di Bergomi, del calibro di Sandro Mazzola che erano ragazzi e uomini dediti allo sport e non a queste ragazzate ecco magari bisognerebbe un po' richiamare sto ragazzo all'ordine più che altro deve dare una figura di capitano, una figura di sé diversa da quella che mostra su questi social network. Poi ovviamente ecco il giorno che lui deciderà di lasciare il calcio magari si può dare una fotografia, si può dare a fare le foto da modello, da fotomodello insomma potrà dedicarsi che cazzo ne so al porno per dire, per metterla così sugli ironia. No, ripeto, non c'è nulla di male di per sé a vedere una foto così perché comunque tanti altri le fanno anche i calciatori però lui essendo un ex capitano quindi comunque era un capitano di un team così prestigioso dovrebbe dare un'immagine almeno di sé diversa e quindi ripeto hanno fatto bene a togliergli quella fascia da capitano perché questo ragazzo, questo giocatore non impara ad essere un po' più con la testa sul campo, quindi sul lavoro, rispetto ad avere questa testa tra le nuvole oppure tra le cosce della sua compagna, insomma ecco. Vabbè ragazzi con ciò ci vediamo stasera, la partita con Udinese è abbastanza dura e impegnativa perché Udinese è in una classifica anche abbastanza delicata, noi dobbiamo cercare di mandare al terzo posto quindi sarà una bella partita. Con ciò vi saluto e vi auguro un buon weekend, ciao!